ciao a tutti ragazzi bentornati sul canale musica spiegata per conoscere insieme nuovi canzoni nuovi testi che hanno fatto la storia della musica internazionale che faranno la storia della musica in generale oggi andiamo a parlare di uno dei gruppi più importanti sulla scena europea e anche mondiale che sono appunto gli u2 con il famosissimo bono vox il frontman è uno dei più famosi cantanti del pianeta oggi parliamo di un testo che è uno dei più importanti della band irlandese uscito il 9 ottobre del 2000 una canzone per ogni stato d'animo con la particolarità di rendere il giorno migliore se sei un po giù di morale semplicemente ascoltandola a tutto volume cantando la squarciagola la canzone appunto è beautiful day una bellissima giornata bono spiegando il tema della canzone raccontava l'essenza l'essenza ottimistica un atteggiamento che pur di far fronte alla perdita di tutto ciò che sia ci rimane la speranza perché si sa sempre la possibilità di vivere una bellissima giornata il testo venne composto in diverse fasi prendendo forma da una composizione intitolata always ma gli u2 non erano soddisfatti come riferito dal chitarista the age quando bono arriva con il testo di beautiful day la canzone prese una direzione diversa e tutti la conosciamo andiamo appunto a tradurre il testo beautiful day che significa appunto una bellissima giornata una bella giornata inizia dicendo the heart is a bloom quindi alla bloom è fiore fioritura in fiore quindi possiamo tradurlo come il cuore è in fiore shoots up through the sunny ground shoots to shoot up è balzare alle stelle quindi però vabbè possiamo tradurlo come crescere su stani è il terreno sassoso di pietra ground è la terra al suolo il terreno quindi quindi possiamo addurle tradurlo con il cuore è in fiore sta sbocciando dritto proprio su attraverso un terreno roccioso e quindi con tutte le difficoltà che può incontrare there is no room room vuol dire significa stanza camera spazio quindi non c'è there is no room no space to rent in this town non c'è una 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 stanza nessuno spazio da affittare in questa in questo rente vuol dire affittare da affittare in questa in questa città you are out of luck to say sfortunato and the reason that you had to care ed il motivo per cui dovevi fare attenzione dovevi stare attento the traffic is stuck stuck vuol dire bloccare quindi il traffico è bloccato and you are not moving anywhere anywhere significa da nessuna parte in qualunque posto dovunque da qualche parte quindi sei sfortunato e il motivo per cui devi fare attenzione il traffico è bloccato e tu non ti stai muovendo da nessuna parte non puoi andare da nessuna parte you have found a friend tu pensavi che avevi trovato un amico to take you out of this place che ti portava fuori da questo posto someone you could land a hand to land vuol dire prestare quindi qualcuno a cui tu potevi prestare potevi tendere una mano in return of grace il ritorno di grazia in cambio di grazia it's a beautiful day è una bellissima giornata sky falls you feel like to fall vuol dire cadere quindi possiamo dirlo come il cielo cade oppure il cielo è alla portata di mano e tu ti senti come in a beautiful day come se è una bellissima giornata don't let it get away to get away vuol dire vuol dire fuga quindi non lasciartela scappare via questa bellissima giornata non lasciare che scappi you are on the road tu sei sulla strada but you have got no destination ma tu non hai nessuna destinazione you are in the mud mud è fango quindi tu sei nel fango sei impantanato in the maze of her imagination maze è labirinto quindi tu sei impantanato nel labirinto della sua di lei immaginazione you love this town tu ami questa città even if that doesn't ring through to ring vuol dire suonare telefonare quindi anche se non suona vero non sembra vero you have been all over sei stato dappertutto l'hai girata in lungo e in largo and it's been all over you ed è stato tutto su di te ti ha avvolto it's a beautiful day è una bellissima giornata touch me toccami take me to the other place portami in un altro posto teach me love quindi insegnami amore I know I'm not a hopeless case io so che sono un caso senza speranza see the world in green and blue vedi il mondo in verde e in blu see China right in front of you vedi la Cina proprio di fronte a te come questa immaginazione see the canyons broken by cloud vedi i canyons rotti dalle nuvole see the tuna fleets clearing the sea out allora tuna è il tonno è il pesce quindi fleet sono le flotte quindi vedi le flotte di tonni che sgombrano il mare che puliscono il mare see the bedwine fires at night vedi i bedwini che sparano nella notte quindi è come se lui stesse guardando alla finestra tutto il mondo see the oil fields at first light allora oil è petrolio cioè field è campo oil field vabbè oil è anche olio però oil field tutto insieme significa giacimento petrolifero quindi vedi i giacimenti petroliferi alle prime luci dell'alba and see the bird with a leaf in her mouth e vedi l'uccellino con leaf è la foglia quindi vedi l'uccellino con la foglia nel suo becco after the flood all the colors came out flood vuol dire inondazione e diluvio quindi dopo il diluvio tutti i colori che vennero fuori sono venuti fuori it was a beautiful day è stata una bellissima giornata don't let it get away non lasciare che vada via che scappi beautiful day bellissima giornata take me to the other place portami in un altro posto reach me raggiungimi in questo altro posto I know I'm not a hopeless case io so che io non sono che non sono un caso senza speranza quindi adesso lo ripete no I know I'm not a hopeless case e so di essere di non essere un caso senza speranza what you don't have you don't need it now ciò che non hai che non possiedi non c'è bisogno ora di questa cosa perché non hai bisogno di niente what you don't know you can feel it somehow somehow vuol dire in qualche modo in modo o nell'altro quindi quello che conosci che tu sai lo puoi sentire in qualche maniera quindi questo è il testo di Beautiful Day degli U2 mi invito di ascoltarlo con la traduzione in modo che si possa imparare anche soltanto una parola più d'inglese e e capire anche in retroscena che hanno scritto che hanno spinto questi grandi artisti a scrivere questi grandissimi capolavori invito appunto a mettere un mi piace al video se vi è piaciuto e iscrivervi al canale musica spiegata per continuare questo grande percorso insieme quindi con Beautiful Day degli U2 o U2 è tutto per il momento alla prossima ciao ciao